Oggi parliamo di quella cosa che vedete sempre nei sottotitoli di Netflix o di qualsiasi altro servizio streaming che è Indistinct Chatter Indistinct Chatter Indistinct Chatt Chatt Non so come si pronuncia ragazzi Americano Chatter Inglese Chatter 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 Oh my god, I heard some indistinct chatter I am Billy Kimba I am Billy Kimba Lo vedete sempre no? Nei sottotitoli quando non c'è nessuno che sta parlando Però ci sono dei rumori di sottofondo Ok, quindi è un rumorio, un chiacchierio indistinto Quindi qualcosa che non riuscirete mai a capire Se qualcuno sta parlando in lontananza non riuscirete mai a capire che cosa stanno dicendo Perché è una cosa che non si distingue bene dal resto È più un rumorio, un ciccicin, un ciocciucion Un paramparciumodancio È più un rumore, un c'è nessuno che sta parlando in lontananza non riuscirete mai a capire che cosa stanno dicendo È più un rumore, un c'è nessuno che sta parlando in lontananza non riuscirete mai a capire che cosa stanno dicendo